L'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane visiterà l'Istituto Penitenziario di Ia Lamaccio e quando ha chiesto l'Avvocato Sulmonese Cinzia Simonetti, componente dell'Osservatorio, all'indomani del triste episodio che ha visto protagonista un collaboratore di giustizia che si è tolto la vita in cella. I numeri in carcere sono tornati a salire, dal dopo Torreggiani siamo di nuovo in una situazione di emergenza nazionale, fa notare Simonetti nella sua disamina sulle carceri italiane. Inoltre va detto che l'Istituto di Sulmona ospita persone detenute in regime di alta sicurezza e alle quali sono state combinate pene particolarmente lunghe, ci sono molti ergastolani o stativi e questo fa sì che ci sia particolare bisogno di sostegno psicologico perché queste persone possono affrontare la pena nel senso costituzionalmente orientato, prosegue l'Avvocato che annuncia la visita all'Istituto Penitenziario di Massima Sicurezza. Chiederò per conto dell'Osservatorio Carcere e dell'Unione delle Camere Penali Italiane di essere ricevuta con una delegazione dell'Osservatorio per una visita in Istituto, conclude Simonetti.